Ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video, cioè con un nuovo video, tra l'altro là c'è la mia ragazza, non vi posso dire il nome, mi è caduto il dente poco fa. E niente ragazzi, ora stiamo andando alla Cray, ci vediamo là, bella. Ovviamente ragazzi parliamo dentro alla Cray, bella. Ragazzi, invece di andare a fare la spesa, cioè invece di fare la spesa alla Cray, cioè l'abbiamo la cosa a casa, cioè a me mi sembrava che dovevamo andare alla Cray, invece siamo qui in via dei cantieri per andare in tutta un euro. Euromania, bella. Tutto a soli un euro. Bella la vita. E ora ragazzi, entriamo al negozio. Cioè vorrei fare come a Anthony di Francesco, si è nascosi tutta la notte in un negozio, sarebbe figo. Siamo qui al negozio. Siamo, vabbè, bello. Siamo al negozio, qua il tutto è un euro. Aspettiamo che fanno i suoi comodi. Vediamo se c'è qualcosa per me. Non c'è niente. Pennelli, cos'è? Ah, il coserno per la scuola? Che mi serve? Ah no. C'è il carrello, vabbè. Tutt'è un euro. Che è che mi manda messaggi? Ah, perciò. Cioè ragazzi ho un iscritto, un iscritto. Vabbè, certo, l'ho aperto ieri il canale, certo. L'ho aperto ieri il canale, ragazzi. Quindi che volete se sono solo un iscritto. Il telefono è a 5. Come faccio? Il telefono è a 5. No, ragazzi, il telefono è a 5, non ci credo. Cioè, l'avete sentito voi? Tutto? Cioè, è a 5. Guarda, i bicchieri. Già i bicchieri. Sei sconti. Vediamo se c'è il libro per... Sei lì. Il quaderno, voglio il quaderno della scuola. Perché mi sto parlando con... Malato, voglio? Comunque ragazzi, ci vediamo in macchina. No, ragazzi, ci vediamo in macchina. E poi ci vediamo a casa. Bella. Bellissimo. Allora, ragazzi, il telefono è a 4. 4? Sì, l'avete sentito prima che... Cioè, l'avete sentito il suono. Tutu. E ragazzi... Non so se ce la farò... Andare a casa con il telefono è a 4. Mi scarica. E ragazzi, ci vediamo... Ci vediamo... Concludo quel video E ci vediamo a casa con un altro video. Bella. Ma cosa ce la faccio? Vediamo? Sì, ci proviamo? Non ci credo. Ce la farò a 4. Sicuramente non ce la farò. Ci vediamo a casa. Bella. Ciao. 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 Ciao.